a udine è arrivato anche messier bergamasco dopo tanti anni in giro per il mondo a giocare a rugby che emozioni che emozioni prova a vedere qui tra questi tutti questi ragazzini a incodere una pallovare io adoro i ragazzini e per questo motivo adesso mi sto occupando anche di loro e quindi trovo che come rugby poche realtà possono dare appunto queste queste emozioni queste gioie vedendo quasi 600 ragazzini correre e rincorrere una palla ovale sul campo loro sono i principali artefici di queste di queste emozioni sono i principali artefici di queste dei principi per i quali noi veniamo ogni domenica ogni weekend a vederli correre sui campi sono gli attori principali sono coloro che devono essere supportati in quello che fanno questo è la loro massima espressione loro migliore espressione quella del movimento qual è la massima espressione qual è la miglior cosa che non vederli non vederli esprimersi in campo al cento per cento senza nessuna inibizione che venga da dei genitori dagli amici e da quant'altro quindi credo che è una si apre il cuore in questi momenti no si apre il cuore perché riesce a vedere veramente l'essenza delle degli individui delle persone io sono contentissimo quando ho questa opportunità perché io che mi occupo di loro imparo da loro ogni giorno e io penso senza paura di essere smentito che solo il rugby e poche altre discipline possano dare questa opportunità sì l'ho detto prima credo che il rugby come altre poche discipline abbiano l'opportunità di dimostrare ogni giorno sul campo questa meraviglia i giovani sono le meraviglie sono dei prodotti della natura delle 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 fantastiche invenzioni della natura e credo che ecco poche realtà riescono a gruppare più di cento bambini con i loro educatori sul campo e fare in modo che la maggior parte riescono a muoversi assieme ho esattito dicendo Messier Bergamasso anche perché è ciò che ha militato anche all'estero come come professionista quindi è un sogno che si è realizzato partendo da una piccola società è anche il messaggio che si possa dare a questi ragazzi è vero io ho iniziato a giocare a rugby avevo cinque anni nel club del selvazzano rugby che è una provincia di padova e il sogno se il sogno si crea la visione si crea un po più avanti quando da da un gioco diventa una passione con la fortuna di aver avuto gli educatori attorno per questo ovviamente il primo mio padre che mi hanno dato mi hanno trasmesso la loro passione io l'ho accolta senza mai dimenticarsi che il divertimento è la base di tutto quanto la base di una relazione che si crea sulla fiducia tra 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 te i compagni di squadra tra te gli educatori e che è la è la è la base fondamentale diciamo la lo scivolo fondamentale sul quale poi fai le scelte che questo diventi quindi la tua tua futura il tuo futuro lavoro comunque la tua futura passione che rimanga comunque una passione all'interno del rugby ricordiamo ci sono diversi ruoli non si deve tanto giocare una passione si vive in maniera in maniera completa e non c'è tanto il gioco ci sono tante altre figure che possono comunque sono estremamente utili all'interno di un panorama sportivo come quello reggistico c'è il dirigente c'è l'accompagnatore c'è il presidente della società il manager ci sono i medici ci sono i fisioterapisti e c'è la componente fondamentale tutte le persone che seppur non hanno un ruolo specifico all'interno di un club sono lì a supporto di quello vedi i genitori vedi gli amici vedi gli amici degli amici e così si riempiono gli stadi e così si riempiono le staccionate attorno ai campi quando i bambini stanno giocando hanno parlato prima di fatto che si occupa anche di giovani che tipo di programma anche tipo di attività sta svolgendo in seguito all'esperienza di sei anni di campus che sta comunque continuando il campus di Mauro Bergamasco che mi porta il mio nome ho definito un metodo educativo perché all'interno non si parla soltanto di rugby si parla di movimento si parla di attività motoria funzionale e condizionale ma anche di formazione anche di integrazione e di educazione quindi sto scrivendo il metodo educativo Mauro Bergamasco attraverso la didattica anche delle persone che assieme a me hanno costruito questa realtà e questo è l'apporto al servizio dei giovani come? Passando attraverso gli educatori quindi cambiando stato di coscienza di un educatore portandolo alla coscienza di quello che è il suo ruolo educativo e su quel ruolo educativo poi lavorare sulla metodologia di approccio e quant'altro quindi seguiremo anche il campus e tempistiche per la realizzazione di questo progetto? il campus è alla settima edizione del prossimo estate, le date sono definite praticamente saranno probabilmente al 18 giugno per tre settimane, saranno divise per età a breve anche le comunicazioni sulla pagina facebook e sul sito campusmarubergamasco.it quindi queste sono già delle realtà e penso che le iscrizioni saranno aperte dal mese di gennaio il tempo giusto a livello così organizzativo di rinnovare il sito internet, di mettere le varie comunicazioni e definire anche le location che probabilmente sarà a Isamar in provincia di Chioggia e quindi anche vicino al Friuli Venezia Giulia è quindi anche facile da raggiungere ancora due curiosità, la prima legata ovviamente al rugby nazionale risultati ancora un po' altalenanti, cosa manca per essere veramente solidi anche a livello internazionale? insomma io penso che con l'uscita di sua staffa abbiamo appena iniziato allora siccome la politica in Italia è di non dare il tempo per poter lavorare per poter avere risultati a medio e lungo termine io dico non do anzi giudizio assolutamente mai credo che si debba lasciare il tempo di impostare un tipo di lavoro di ricreare una cultura rugbystica che loro portano dal punto di vista anglosassone e che penso che stiano già adattando a quella la cultura italiana quantomeno e quindi è un po' prematuro dire passi avanti, passi indietro io di passi non ne parlo mai piuttosto valuto la prestazione pura e scarna di volta in volta e credo che gli addetti lavori possano trovarsi d'accordo in questo senso nell'andare a lasciare il tempo all'allenatore, allo staff di lavorare e magari prima di giudicare o di farsi delle idee magari informarsi di quali sono gli obiettivi reali di uno staff per vedere se poi sono perseguiti o meno perché non siamo abituati purtroppo ad avere programmazioni a lungo o medio termine siamo sempre adesso per ieri e purtroppo in questo senso qua è difficile non astenersi dal giudizio sebbene sia estremamente negativo il giudizio in quanto tale ed è difficile poi anche essere molto oggettivi sull'idea da farsi quindi la mia proposta è lasciamolo lavorare almeno un anno cerchiamo di informarci o magari cerchiamo di capire perché l'interazione tra uno staff tecnico, una federazione e il pubblico è estremamente importante a patto che sia costruttivo allora questa cosa deve essere la domanda di qual è il tuo obiettivo è una domanda lecita che può essere apprezzata anche da lui perché le persone cercano il pubblico il mondo reggibistico italiano cerca in qualche maniera di interessarsi a quello che lui fa e forse la sua risposta potrà essere esaustiva nel senso che forse può far riflettere tanti che fino ad oggi hanno puntato il dito prima ancora di conoscere effettivamente di cosa si tratta e in bocca al dupo ovviamente anche a Oshii e ultimissima curiosità in mezzo a questi ragazzini ma anche in mezzo a dello genitore la domanda se ce n'è stata una più curiosa più particolare che è stata fatta a Mauro Berganas qual è? stanno giocando di conseguenza la cosa importante è che si divertono a giocare se si divertono giocando le domande non le fanno quindi non avendo ricevuto domande fino ad ora sia in questo campo che in under 12 dall'altra parte il significato è che si stanno divertendo sono impegnati nel gioco e questa è la cosa migliore che possono fare oggi in questa giornata grazie in bocca al dupo per tutto grazie a voi a vivi grazie a voi a vivi grazie a voi